Abbiamo qui una 500, una 500 di una nostra amica, diciamo una delle nostre preferite Simona Salvemini, questa è la 500 che gli abbiamo fatto tempo fa Adesso ha deciso di cambiare colore, lo farà ancora più particolare Perché questo abbiamo fatto un rosè, però tutti dicono che la prendono in giro che sembra un Ferrero Rocher Allora ha deciso di cambiare colore, la farà in un glitter Non vi diciamo che è tonalità di glitter, ma sicuramente brillerà come lei Vedete che abbiamo già iniziato a spellicolare Abbiamo aspettato questa stupenda giornata per spellicolare E vedrete che questa macchina sarà una piccola bomba Dunque non prendetevi il video Come sta andando Simona? E' bene, si è appena arrivata la pellicola sto iniziando a tagliare, dargli la forma Fascinante però per lei, eh? Si, è bellissimo Molto bello, eh? Ce la fai da solo e vuoi dire una mano? No, no, tagliare ce la faccio, dopo quando devo metterla giù ti chiederò una mano, eh? Dai, sono contento Già lei la voleva un po' più particolare Dunque adesso diciamo che ci siamo, eh? Qua manca un pelino, lo allunghi un po' per dietro, hai visto qua? Eh no, il problema è stesso, eh? Qua rientro Ma fa il taglio Eh ma da fare La citta Eh sì Per forza, eh La minigonna separata qua giù Sì, 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 sì Well, miss I guess I'll be on my way now You just give me a Uh oh 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 ci siamo quasi con questa bellissima macchina la nostra amica Simona pensate che ragazzi questa macchina non è ancora uscita in quasi nessun social abbiamo fatto vedere su TikTok un piccolo video e siamo già arrivati quasi a un milione e mezzo di visualizzazioni e quasi 600 commenti non oseremo immaginare quando la metteremo fuori dal sole e gliela faremo vedere dunque adesso sta facendo il paraurti abbiamo già finito questa parte e proseguiremo con l'auto abbiamo anche lì il dubbio del tetto se farlo nero glitter o lasciarlo così però funziona bene stiamo andando alla grande ragazzi ci siamo anche perché ci siamo consumati le mani abbiamo finito questa bellissima 500 in glitter per la nostra amica Simona che dire per lei è il top fantascientifica ma guardate quanto brilla ragazzi ha un effetto stile veramente proprio a toccare si sente proprio il brillantino e soprattutto non lascia brillantini come potreste pensare mentre si tocca è una pellicola molto speciale siamo fatti fare questo materiale noi apposta su misura che dire ragazzi è bellissimo con il contrasto del tetto nero sempre in glitter ma non rubido liscio chissà quando la vedrà cosa dirà secondo noi il glitter è uno dei colori innovativi uno dei colori più belli adesso aspettiamo solo che arriva lei dunque ci siamo ragazzi speriamo che gli piaci però ce l'ha scelto lei non potevamo aspettare una giornata così bella per presentare quest'auto ragazzi sta per arrivare la mitica Simona è la proprietaria dell'auto Simona Salvemini è una ragazza d'oro e noi gli abbiamo fatto una macchina non d'oro ma comunque glitter piena di diamanti come gli piace a lei l'altra volta gliel'abbiamo fatta come un ferro rocher sempre lei dice così questa volta abbiamo voluto esagerare anche sotto la sua richiesta vedete abbiamo realizzato quest'auto con un rosso glitter con il tetto nero glitter prima avevamo fatto un nero glitter molto liscio adesso anche questo nel complesso rubido abbiamo lasciato gli specchietti in questo nero visto la complessità nel fare questi specchietti con questo materiale dunque avevamo paura che tornassi oppure non abbiamo voluto rischiare dunque che dire adesso veramente aspettiamo lei gliela copriremo sotto un telo e vedremo la sua reazione speriamo che arriva quando la giornata è ancora soleggiata in modo che risalta ancora di più il glitter però tanto comunque anche se non ci sarà il sole oggi gli altri giorni vedrà questo spettacolo di auto abbiamo notato che su tiktok è andato a bomba quasi due milioni di visualizzazioni e centomila like per questa auto non è ancora uscita ufficialmente adesso vedremo l'effetto che vi farà finalmente ci siamo dopo quanto ma non per colpa tua ma per colpa mia perché è un mese che è pronta la macchina ma io essendo sempre in giro perché dopo una settimana era pronta infatti prima gli ho detto giri il mondo e vieni anche all'ecolo non il mondo l'Italia l'Europa un pochettino dell'Europa comunque è bellissimo una nostra cliente amica è la numero uno io gli dico sempre che la numero uno lei mi dice sempre di no però è vero adesso gliela vogliamo far vedere perché lei non l'ha ancora vista dal vivo ha visto solo un pezzettino col campione ci ha fatto fare anche una modifica col tetto ho rotto le scatole col tetto adesso lei gliela facciamo vedere proprio come deve essere questa macchina sotto il sole o alla luce visto che oggi è una bellissima giornata ti faccio venire qua così almeno ti facciamo questa bellissima sorpresa giuro non puoi capire ma perché è la prima che hai fatto questo cioè il materiale sì ma il colore il primo la prima a me almeno ho scelto la cosa per prima perché tu lo sai che voglio le cose un po' diverse è un colore particolare secondo me è quello che ti si addice più a te anche perché comunque è unico non ce l'ha nessuno un giorno andremo in televisione me lo auguro ma è sì ma il programma su real time ci stiamo provando e ci stiamo quasi arrivando adesso manco dei dettagli ti faccio la valletta e te sarai una protagonista ti porto la valletta vai ci siamo vai no ti prego che cambiamento con la luce fighissima no te lo giuro non me l'aspettavo così ma è stupenda te l'ho detto che era e per quello che te la volevo far vedere alla luce stefi no è bellissima ma tu sarai la regina di Milano che roba non solo di Milano eh mi noteranno sicuramente più di prima sì no questa è super è bellissima no veramente mi hai lasciato senza parole te lo giuro allora ti piace ma te la guardo super super vedrai sempre tu mi viene a prendere tu certo rimorcheremo due bionde sopra il glitter io ti seguirei con un'altra macchina per vedere le persone quando ti superano quando ti guardano l'effetto che fa aspetta mi si è rotta l'unghia ecco